Uno dei filosofi contemporanei viventi più importanti del mondo ha dedicato il suo ultimo libro alla musica di Rossini. Binciulana ha scritto che la musica di Rossini è talmente ricca di sentimento che riesce a farci immaginare di vivere autopia, la città della felicità, la città dell'immaginazione, la città che non c'è. Ecco allora la sfida a cui siamo chiamati oggi, a cui vuole rispondere la città di Pesaro e la sua comunità. Non soltanto raccontare la città che c'è, la città così com'è, con il suo paesaggio, con il suo patrimonio culturale unico al mondo, ma ideare, costruire, progettare la città che non c'è, la città dell'avvenire, come scriverebbe il filosofo Jacques Derrida. E per pensare la città che non c'è innanzitutto è necessario capire le sfide del presente. In questi ultimi due anni di pandemia, in queste ultime drammatiche giornate abbiamo visto che il presente ci pone sfide nuove e non possiamo rispondere con le risorse concettuali di ieri. Servono nuove risposte, servono nuove abitudini individuali e collettive in grado di rispondere a queste questioni. E la Pesaro che non c'è si costruisce soltanto ripensando il nostro abitare. Intanto il nostro abitare è lo spazio, lo spazio locale e lo spazio globale, lo spazio virtuale e lo spazio reale, il centro e la periferia. E ripensando il nostro modo di abitare il tempo, il tempo perduto, il tempo del passato, la tradizione e il tempo ritrovato, il tempo del futuro, il tempo delle nuove generazioni. Ecco allora il senso del metodo del quartiere dell'immaginario. Ecco il senso degli esercizi, delle pratiche, dei laboratori di cittadinanza culturale che si sono svolti in questi mesi nei quartieri di Pesaro e nelle tante città del nostro territorio. È importante, direbbe Alderlin, tornare ad abitare poeticamente il mondo, a ritrovare quell'armonia tra ambiente e città, tra paesaggio e cultura, che sono un unico paesaggio culturale plasmato dalle nostre memorie e dai nostri desideri. Quando il mondo si trasforma, come abbiamo visto in questi giorni, in una vera e propria distopia, in un incubo distobico, è ancora più importante continuare il lavoro che costruisce un'utopia locale, che vuole essere però un modello per un'utopia globale.